Ma adesso mi fai le domande perché non so più cosa dire. Andrea, ma senza le mie domande fai fatica. Sono persissimo, sì. E poi le tue domande che sono così... Non ce le prepariamo, è tutto fatto al momento e forse per quello che dopo viene anche bene. Ciao ragazzi, spero tutto bene. Oggi parleremo del workout del mercoledì come al solito e in questo caso parleremo dell'allenamento progressivo. Dal lockdown le settimane passano e sempre più persone stanno tornando in forma. Io in particolar modo sono quasi riuscito a scendere al peso forma pre-covid. Tra l'altro nel famoso libro di Tim Knox, Law of Running, quindi la scienza della corsa, si sottolinea che una delle dieci ragioni per curarsi durante un'infortunia è quello di continuare a correre. Io mi sono finalmente ripreso, sono riuscito a correre un lungo di 30 km. Tra l'altro nei prossimi giorni parleremo proprio di come realizzare un lungo. Le tre domande principali che mi sono state chieste negli ultimi giorni, ecco qui il bigliettino che spiega che comunque qualcosa ci prepariamo. In primo luogo cosa ne penso di Strava, ora che è a pagamento? Beh, in realtà come vedete ho la maglietta di Strava perché comunque sono stato nel passato una sorta di ambassador per l'azienda americana. Ovviamente non è a pagamento, nei prossimi giorni ne parleremo. Alcune funzioni sono attive, altre funzioni sono state, tra virgolette, disattivate. Se non per coloro che sono utenti premium, ne parleremo e vi darò la mia opinione. In secondo luogo mi è stato chiesto quando pubblicheremo la recensione approfondita del Polar Grid X, questo qua. La recensione completa di solito la realizzo un mese dopo aver testato il prodotto in maniera dettagliata. Sono ancora a metà del percorso, appena possibile ve la farò avere. Infine per chi mi segue su Strava sappiate che ho testato le OnCloud, grazie alla partnership con Running Warehouse che mi ha fornito gratuitamente queste scarpe. Sono molto contento, nei prossimi giorni ne parleremo. Ci sarà una recensione dettagliata, sappiate che sono scarpe eccellenti. Ora lascio la parola ad Andrea che ci parla del progressivo, poi torniamo qui per due considerazioni finali. Andrea oggi sei molto bucolico, come ti stai allenando per il 2 giugno? Allora per il 2 giugno mi sto allenando puntando sul fondo, quindi sto facendo tanti lavori come variazioni di ritmo, niente recuperi da fermo, niente ripetute diciamo, quindi sto molto su medi progressivi e fartlek e variazioni. E un lungo ogni weekend praticamente. E quindi agli iscritti del canale che cosa suggerisci per questa settimana? Allora diciamo che lavorare sulla velocità ormai non serve, comunque perché la gara è a pochi giorni, quindi non riusciremo neanche ad assimilare i lavori. sicuramente almeno di darci un'idea sul ritmo che possiamo tenere. Quindi magari fatevi anche delle variazioni un minuto a un minuto, che abbiamo già fatto la settimana prima, e vedete più o meno qual è il ritmo che riuscite a tenere sul minuto forte. Partite 10 secondi più lenti diciamo in gara, quindi come idea. Questa settimana che cosa suggerisci? Allora, come allenamento per la settimana direi di tenerci un progressivo. È un allenamento che non amo, ma in questo periodo dove non abbiamo ancora chiari i nostri ritmi potrebbe essere una buona via di mezzo, dove riusciamo comunque a buttare dentro un po' di chilometri e dove riusciamo comunque alla seconda parte del lavoro a tirar fuori un po' di ritmi gara. Lo imposterei in due maniere. La prima è partire a lento, una parte dai primi 4-5 chilometri a lento, quindi una specie di riscaldamento, 4-5 chilometri impegnati e 2-3 chilometri al massimo. Poi vedete sempre un po' voi dalle vostre capacità e quanti chilometri fate nelle vostre uscite di lento come modulare questo progressivo. Esempio, se fate 12 chilometri di lento siete abituati, potete tenere anche un progressivo da 12-14 chilometri, quindi 4-5 di lento, 4 impegnati e il resto invece al massimo. Oppure la seconda idea che vi posso dare di progressivo è fare 2 chilometri di riscaldamento e poi fare un mini progressivo da 10 chilometri circa, dove fatti i primi 4 a un lento svelto, 3 chilometri al medio e gli ultimi chilometri rimanenti al massimo. Per la gara del 2 giugno ovviamente dobbiamo anche valutare i ritmi e stabilire cosa fare. Esatto, siccome la gara è da 10 chilometri abbiamo il problema della tenuta. Fare un test sui 3 chilometri, sui 5 chilometri è diverso che uno da 10. Perché? Perché rischiamo di arrivare a metà gara che abbiamo finito le energie. L'idea che vi posso dare, cioè che vi da questo progressivo è comunque quando sarete alla parte del medio e la parte del veloce se riuscite a tenerlo per 10 chilometri. Quindi già i ritmi riuscite a capirli in questo lavoro. È difficile dirlo perché, cioè dirvi io dei ritmi, perché chi ha tanti chilometri sulle gambe magari riesce anche a tenere la parte veloce, quindi gli ultimi 2 chilometri del progressivo e li riesce a tenere per tutta una gara da 10 chilometri. Chi fa pochi volumi, quindi 40-50 chilometri alla settimana, rischia di non riuscire a tenere quei ritmi, ma quelli della parte del medio un attimino un pochino più forti. E per la gara che scarpe utilizzerai? Non lo so, non lo so, stiamo aspettando delle scatcher, forse userò quelle o comunque non le evaporo perché non correrò su pista, quindi non le vorrei usare. Ti posso anche dare un paio di New Balance Anzo? Magari potrebbero esserti utili. Ecco, diciamo che le Anzo sono davvero leggerissime, erano una scarpa che mi stuzzicava già ai tempi. Vediamo, vediamo un attimino. Se c'è qualcosa da testare sicuramente in gara sarebbe perfetto, se no vediamo cosa dice il parco scarpe. Anche perché per un gruppo di persone questa scarpa potrebbe essere utile e testarla sul canale. Sì, diciamo che è una scarpa da praticamente velocità, quindi o si usa in gara o non la si può utilizzare. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Tornati qua nello studio, in conclusione cosa dire del progressivo? È un allenamento semplice, il nostro corpo dopo 15-20 minuti di riscaldamento si adatta, rilascia endorfine e di conseguenza diventa sicuramente più facile correre velocemente. Sposo in toto quello che ci ha raccontato Andrea, sappiate comunque che il progressivo si può svolgere in mille permutazioni. Se dovessi darvi qualche consiglio finale direi sostanzialmente due cose. In primo luogo, anche se il progressivo tende per sua natura a non essere pianificato, vi consiglio di pianificarlo in anticipo. Vi consiglio di pianificare non soltanto la distanza, non soltanto il ritmo, ma anche dove andate a correre, perché è altamente probabile che corriate con un'altimetria non necessariamente costante e di conseguenza dobbiate variare il vostro ritmo in funzione di dove state correndo. In secondo luogo, se spezzate il ritmo sappiate, per esempio se correte a 6 al chilometro, che nella seconda parte dovete fare una differenzazione di passo molto importante rispetto alla prima. non ha senso in effetti correre a 5.40, dovreste probabilmente finire il progressivo a 5 o addirittura a 4.45. Il progressivo in conclusione è un allenamento che si adatta a questo periodo in cui non ci sono ancora gare se non quelle virtuali e di conseguenza ve lo suggeriamo, vi suggeriamo di farlo una volta a settimana. Chiaramente in autunno invece non pensiamo che sia l'allenamento migliore perché in questo caso è meglio sicuramente svolgere allenamenti di qualità e non soltanto un mezzo allenamento. E per oggi è tutto, tutto qui. Mi sono dimenticato di chiedervi se volete, suggerite sempre qua sotto ulteriori argomenti, non le scarpe perché quelle le faremo senz'altro, che vorreste vedere sul canale. Noi siamo qui, ne parleremo nelle prossime settimane. E come al solito, se è strong, fateci sapere i vostri feedback, lascio la parola ad Andrea che alla fine del video vi spiega come e perché gareggiare il 2 giugno per il 10.000 d'Italia. Ciao, alla prossima! Ciao ragazzi, sono qua per dirvi che il 2 giugno parteciperò al 10.000 d'Italia. Io sono Andrea Soffientini, vediamo dopo questo periodo di post-quarantena come reagiranno le gambe. Sicuramente proverò a dare il tutto per tutto, anche perché ho visto che ci sono tanti atleti forti e cercherò di stare davanti. Si corre per una buona causa, quindi ricordatevi di fare anche una piccola donazione alla Croce Rossa. Teniamo questa gara come allenamento, teniamola come gara ma anche come allenamento. Cerchiamo di divertirci e sappiate che stiamo correndo per una buona causa, quindi via e gas! E se volete qualche tips, qualche consiglio sul canale con Massi Milani vi daremo qualche idea su come affrontare questa gara poi. Ciao, alla prossima!